segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te ho sentito dire che noi non accogliamo e a bologna ci sono in questo momento più di 4 mila persone nei centri comunali e statali noi abbiamo il 10 per cento delle persone accolte a livello nazionale nel sai le quote dovrebbero essere proporzionate alla popolazione io mille migranti in più di quelli che dovrei avere nei centri e un grande centro alle porte di bologna in via mattei dove venne qualche anno fa papa francesco c'erano 200 migranti allora adesso ce ne sono quasi mille e continueranno ad entrare perché prefettura non sa dove mette io non li voglio per strada sono una città accogliente ma voglio la dignità dell'accoglienza io allora dice